Buongiorno, ben ritrovati oggi martedì 27 aprile, dunque anni fa un potentissimo ministro della prima repubblica, un democristiano che non c'è più, quindi non faccio il nome non perché debba tutelare quale segreto, ma non mi va di attribuire delle cose che poi qualcuno potrebbe dire, bella forza lo dici tu, ma il soggetto non c'è più, non può replicare o smentire, però vi posso assicurare che era un autorissimo esponente di primo piano della democrazia cristiana, qui mi fermo comunque con incarichi di governo ripetutamente, il quale mi disse una volta, veda Piroso, in Italia se vuoi sfregiare qualcuno a livello pubblico in modo da metterlo in una posizione di difesa, in modo da costringerlo a doversi lui difendere da un attacco alla sua reputazione, ecco se vuoi farlo in Italia funziona con alcuni argomenti, pochi, uno è accusarlo ad esempio, mi diceva il Demo Cristiano di qui sopra, di essere omosessuale, perché l'omosessualità, diciamo, questo è riferito a quando il Demo Cristiano del tempo mi faceva questa confidenza, dopodiché mi pare abbiamo avuto un portavoce della Presidenza del Consiglio fino al governo Conte, Casalino, che ha fatto tranquillamente coming out, per cui adesso il dire di qualcuno omosessuale, forse il Demo Cristiano si riferiva ad esempio alle vicende, quelle note poi successivamente di alcuni Demo Cristiani a cui fu stoppata la carriera o la corsa verso il Quirinale perché fu fatta circolare la notizia che erano gay oggi si direbbe, quindi prima cosa dire di uno omosessuale, oppure cocainomane, perché se uno pippa cocaina, se è un tossico dipendente, è un altro sfregio, non è affidabile, oppure, mi disse, dire di uno che è massone, se tu dici di uno che è massone, siccome, diceva il Demo Cristiano, la massoneria ancora bene, molti non sanno cosa sia, se tu butti lì massone è sicuro che gli fai un danno, perché lo costringerai poi a dire o non sono massone, oppure sì lo sono ma che c'entra, eravamo negli anni poco dopo, diciamo così, lo scandalo della P2 che ha gettato ovviamente un'ombra su tutta la massoneria a causa di quella loggia deviata che era la loggia di Vinciogeli, ma adesso ci arriviamo con calma, aggiungerei allo sfregio che si può fare a qualcuno, oggigiorno è più facile dire ha un cattivo carattere, se tu dici di una persona che ha cattivo carattere sicuramente non gli fai un favore, ha un cattivo carattere, quindi è intrattabile, è presuntuoso, arrogante, è scorbutico, è violento, ha un cattivo carattere, e tu dici così, quindi con quel non parlo, come se invece noi siamo circondati a livello pubblico da persone che hanno tutte un ottimo carattere e non sono concentrate su se stesse, sì buonanotte, va bene, allora andiamo a parlare con il gran maestro del grande oriente d'Italia, giornalista, scrittore, che è gran maestro dal 2014, dall'aprile 2014, Stefano Bisi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, allora intanto vogliamo fare un po' di educazione civica, Bisi, cioè spiegare che cos'è la massoneria oggi, la massoneria del grande oriente d'Italia, perché lei può spiegare a me e a chi ci sta guardando che poi in realtà il grande oriente d'Italia è l'entità più numerosa, ma non è l'unica, ho sbaglio? Questo mi pare una precisazione molto importante che le fa onore, perché vuol dire che ci sono ancora giornalisti come lei che approfondiscono le materie di cui si occupano, è vero che il grande oriente d'Italia ha fondato nel 1805 la comunione massonica italiana storica, più numerosa, 23 mila fratelli sparsi in tutta Italia. Per dare una definizione, uso quella che dette tanti anni fa Mario Calvino, che era un fratello e che era il padre dello scrittore Italo Calvino. Mario Calvino disse che è un'associazione che tutela il libero pensiero e cerca di fare il bene dell'umanità. Come fa il bene dell'umanità? Con l'educazione civica di cui lei ha parlato poco fa, perché il tempio massonico, le riunioni rituali nel tempio massonico sono lezioni di educazione civica, dove ogni fratello impara ad esempio ad ascoltare l'altro, non può interromperlo. Mi pare rivoluzionario per i nostri tempi, dove tutti nelle riunioni pubbliche ci mettiamo sopra la parola degli altri. Mi pare quindi da noi si impara, tra le altre cose, anche l'educazione civica. Bene, rido perché in effetti sì, ormai nei talk show televisivi, quelli politici, è un format nel format, lasciami parlare, io non ti ho interrotto, prima dovevo parlare io, mi faccia dire che prima non ho risposto e poi di solito non si capisce più esattamente quale sia l'oggetto del discutere. Bisì, siccome devo fare ovviamente l'avvocato del diavolo in questo caso, le faccio le domande doverose in base al fatto che, come dicevo prima, questo potente democristiano che non c'è più diceva che se vuoi sfregiare uno devi dire che è massone, perché in effetti della massoneria, andando a vedere gli ultimi documenti ho letto ancora una volta e ancora una volta da Rosi Bindi, che è figlia di quella stessa democrazia cristiana e poi arruolata nelle figlie del centro-sinistra, che è declinato in maniera diversa a seconda delle stagioni, quindi c'erano prima il PDS, poi il DS, poi la Margherita, adesso c'è il Partito Democratico, adesso c'è il governo Draghi con questa maggioranza composita. Comunque Rosi Bindi, da presidente dell'antimafia, ha continuato a dire che è intollerabile che in uno Stato repubblicano e democratico, qual è l'Italia di oggi, parliamo di due anni fa, tre anni fa, ci sia un'associazione segreta come la massoneria. Vogliamo specificare una volta per tutto qual è il livello di segretezza della massoneria, Bisi? Il Grand Oriente d'Italia non è un'associazione segreta, non è mai stata un'associazione segreta. Il Grand Oriente d'Italia è un'associazione di uomini che fanno delle riunioni rituali alle quali sono ammessi soltanto i fratelli del Grand Oriente d'Italia. Poi hanno delle iniziative pubbliche dove chi vuole può parteciparvi. Abbiamo un sito internet dove raccontiamo quello che facciamo. Pensiamo a una squadra di calcio. Nello spogliatorio della squadra di calcio entrano soltanto i giocatori di quella squadra e l'allenatore. Poi la squadra va in campo, fa la partita, c'è il pubblico attorno che può vedere, può fischiare o applaudire la squadra che gioca bene o fischiare se gioca male. Un po' questo esempio semplice che faccio, però può comprendere che cosa è il Grand Oriente d'Italia. Il problema è che vogliono, c'è questa mania che ce l'avevano i fascisti, ma purtroppo non è una moda passata di moda, che vogliono sapere chi sono i massoni, vogliono i nomi e i cognomi. I fascisti provarono a prendere i nomi con la forza, dando l'assalto alla nostra sede di Palazzo Giustiniani. Giustiniani in tempi più recenti la Commissione parlamentare antimafia, preseduta all'onorevole Rosi Vini, dimandò i finanziari dello scifo il primo marzo del 2017 a prenderci gli elenchi. Poi alla fine quando prendi gli elenchi, vai a vederli e non trovi chi pensavi di trovare, allora dici hanno nascosto una parte dei nomi. Cosa che noi non facciamo. I nostri elenchi, i nostri archivi sono ben tenuti. Non hanno trovato i mafiosi, tant'è vero che un giornalista che approfondisce sempre le questioni riguardanti la massoneria, su un settimanale scrisse, ma insomma qui ci sono soltanto su 20 mila nomi dal 90 al 2017 dei fratelli dell'elogio di Calabria di Sicilia. Solo quattro che hanno avuto procedimenti giudiziari importanti relativi a reati associativi. Due erano morti e due erano stati respinti. Quindi, disse questo giornalista, ci sarebbe da fare i compimenti al Gran Oriente d'Italia, per questa minima, minima, minima percentuale. In sostanza, quello che sta dicendo il Gran Maestro Stefano Bisi è un concetto che dovrebbe essere mediamente comprensibile. Il fatto che un'associazione sia riservata non vuol dire che sia clandestina, quindi segreta. Tanto è vero, lo dico per esperienza, che se voi volete sapere chi sono, ad esempio, i magistrati iscritti a una certa corrente dell'Associazione Nazionale Magistrati, l'Associazione Nazionale Magistrati è il sindacato delle Toghe, associazione meritevole, adesso poi con tutta la vicenda annessa, connessa a Palamara, ma insomma, composta da correnti, bene, voi non potete chiedere chi siano i magistrati iscritti alle diverse correnti perché vi viene opposto un diniego. La faccio anche più semplice, se io adesso, io sono a Roma, esco di casa e vado alla sede del Circolo Aniene, una delle più prestigiose istituzioni romane, il cui presidente onorario è l'attuale presidente del CON in corsa per la riconferma, Giovanni Malagò, e mi presento all'ingresso e chiedo di sapere chi sono i soci del Circolo Aniene, vengo spernacchiato perché mi direbbero che gli elenchi sono riservati ai soci e non ci sarebbe nulla di male. Giustamente, non ci sarebbe nulla di male. Quindi intanto, seguendo il ragionamento di Bisi, sgombriamo il campo da questa idea che sia segreta. Gli elenchi sono depositati a disposizione dell'autorità quando fa delle richieste motivate e non si tratta di caccia alle streghe. Caccia alle streghe, Stefano Bisi, che però i massoni purtroppo si sono tirati addosso, o almeno quelli che adesso patiscono gli effetti, dallo tsunami rappresentato dalla loggia P2, perché è quello che è stato il punto di svolta che ha gettato un'ombra. Lasciamo stare la scomunica del Vaticano, lasciamo la caccia ai massoni fatta dal regime di Mussolini. Nella epoca della prima repubblica democratica e antifascista italiana c'è stata la violentissima vicenda della P2, rispetto alla quale voi alla fine che convinzioni avete maturato? La P2 è una pagina nera nella storia dei Grandi Oriente d'Italia. In tutte le storie delle associazioni, delle istituzioni ci sono pagine nere, pagine bianche e pagine grigie. Quella è stata una pagina nera nella storia dei Grandi Oriente d'Italia. Però mi permetto di dire che il pregiudizio antimassonico non deriva da quella vicenda. Parte da prima, parte, lei ha citato la breccia di Porta Pia al 20 settembre 1870, il pregiudizio che aveva allora e un po' anche oggi la Chiesa Cattolica. Però guardavo proprio nei giorni scorsi l'intervento che fece il Gran Maestro Ernesto Nata, il Gran Maestro Ernesto Nata nel 1901. Leggendo quello che disse all'inaugurazione della sede di Palazzo Giustiniani, ritrovo tutti i concetti che esprimiamo ancora oggi. Il pregiudizio, se c'è un massone che commette un reato, come ci può essere un carabiniero, un poliziotto, un sacerdote, chiunque può commettere un reato, si cerca di coinvolgere tutta la comunione massonica e non è così. Quindi c'era anche nel 1901 questo pregiudizio. Poi la P2, l'abbiamo vissuta personalmente, venne iniziato, penso un po' il 24 settembre 1982. Un anno prima erano stati scoperti gli elenchi di quella organizzazione segreta che io non ovviamente condanno, ripeto, quella è stata una pagina nera, anche per responsabilità di chi in quegli anni, negli anni 70, lasciò crescere un'organizzazione che non era una loggia regolare. La loggia regolare intendo quella composta da fratelli che vanno nel tempio, che indossano i grembiule, che indossano i guanti bianchi e cominciano a parlare dei simboli da cui sono circondati nel tempio. Bene, dunque due curiosità da profano, da profano non in senso tecnico, perché i profani per i massoni sono coloro che non sono stati iniziati al rito e alla massoneria. Da profano c'è da uomo della strada. Lei continua a ripetere il termine fratello. Bene. Io sto guardando in televisione una serie televisiva che è Il racconto dell'ancella. Il racconto dell'ancella racconta di un mondo futuro o contemporaneo, distopico, come si dice adesso, cioè il contrario di utopico, in cui governano solo gli uomini, le donne non hanno diritto di udienza e di parola, servono solo a procreare. Allora, la massoneria è composta solo da fratelli perché non ci sono sorelle. Perché non ci sono sorelle, Bisi? Nel Grande Oriente d'Italia, che ripeto, come ho detto all'inizio, è la comunione massonica storica presente in tutta Italia, non ci sono le donne. Non ci sono le donne per motivi di tradizione, nel senso che noi ci consideriamo gli eredi dei costruttori delle cattedrali medievali, che erano uomini e quindi nella nostra comunione massonica ci sono solo uomini. Poi ci sono altre organizzazioni massoniche miste o altre organizzazioni massoniche solo femminile. La nostra è così. Noi tra l'altro abbiamo un rapporto di reciproco, un riconoscimento di relazioni internazionali con 200 comunioni massoniche estere, dove la regolarità è considerata se c'è soltanto la presenza maschile. Quindi è un problema di regolarità internazionale. I lavori della massoneria si svolgono con un rituale alla gloria del grande architetto dell'universo. Dico bene? Sì, dice molto bene, preciso. Ecco, il Sole 24 Ore, e io so già che lei stia immaginando dove sto andando a parare, ha scritto gloria al grande architetto dell'universo, gloria alla libera muratoria, perché si chiamano muratori dai costruttori di cattedrali. Tra l'altro, parentesi, a un certo punto Enrico Letta, neosegretario del PD, ha scritto un libro per Mondadori, ma parlo di dieci anni fa, dodici anni fa, per illustrare il suo progetto politico, le cose che avrebbe voluto fare in Italia, intitolandolo costruttori di cattedrali, che sembrava un vago richiamo non so quanto volontario o involontario esattamente. Mi è sfuggito, mi è sfuggito, andrò a leggerlo volentieri. Ah, le sfuggite, ma glielo chiesi e dissi no no, dice perché le cattedrali rappresentano, sì, ma nella tradizione massonica, nella simbologia massonica, i costruttori della massoneria sono stati i costruttori, coloro che hanno di fatto materialmente edificato le cattedrali. Tutto questo perché dicevo, nel settembre scorso, un articolo del Sole24 ha scritto, sì sì, parlano di architetto, parlano di libera muratoria, in realtà lì pensano solo al mattone, nel senso proprio degli investimenti immobiliari e hanno scritto un articolo in cui si diceva che c'era un reticolato di società immobiliari che facevano capo a voi, dovevate costruire una fondazione per mettere tutto lì, come stanno le cose? Avete rettificato, smentito, citato per danni, querelato, non lo so, mi dica lei. La fondazione l'abbiamo fatta, si chiama Fondazione Grande Oriente d'Italia e credo che sia giusto proprio per essere molto trasparenti, ma in quell'articolo, in uno degli articoli che vennero fatti c'erano molte inesattezze, addirittura una falsità come se avessimo voluto costruire villaggi turistici. Per questo abbiamo fatto istanza di mediazione civile, vediamo come andrà a finire. Ah, basta, tutto qua. Cioè nel senso non avete chiamato il direttore dicendo come ti sei permesso, ma è una cosa che non sta in piedi né in terra, siete stati molto british, no perché di solito in Italia in questi casi si annunciano sfracelli, volete tenere la cosa in low profile? No, noi facciamo le cose che sono consentite dalle regole, dalle leggi, in troppi urlano in questo nostro paese. Uno degli insegnamenti che riceviamo frequentando i templi massonici è quello di non urlare. Se urli vuol dire che non hai troppe ragioni da dimostrare. Se non urli è probabile che tu abbia molte ragioni e quindi le puoi spiegare tranquillamente in maniera pacata e nelle sedi opportune. Tutti oggi parlano di tutto, tutti vogliono sopraffare l'altro. Per noi non è così. Ci sono delle regole che noi vogliamo seguire e parliamo nei luoghi opportuni. La domanda cruciale secondo me è perché oggi uno si deve iscrivere alla massoneria? Voglio dire, che adesso mi potrebbe dire, è una domanda anche offensiva, perché no? No, intendo dire, lei ha detto che noi siamo un'associazione che ha come scopo quella di ragionare, riflettere sulle sorti dell'uomo, i destini dell'umanità, si parla in maniera ordinata, ci si ascolta, ci si confronta. Benissimo, bene, non discuto, è tutto sicuramente vero, ma lei non mi può far finta, mi scusi, di non sapere che c'è gente che considera la massoneria una specie di azienda di collocamento per i propri affari, per cui uno si iscrive alla massoneria per incontrare potenzialmente altri fratelli con cui, se possibile, avere una scorciatoia di carriera nella pubblica amministrazione, nei ministeri, nella burocrazia o dove le pare a lei e avere un sostegno solidale nel momento in cui uno si trova ad avere problemi di natura lavorativa o economica. Lei mi dice che a nessuno degli iscritti viene mai in mente di usare la massoneria come mezzo e non la massoneria come scopo, cioè approfondimento della natura umana e dei destini dell'umanità? Chi bussa alle porte dei nostri tempi ed entra e viene ammesso tra noi pensando di avere una scorciatoia per raggiungere un obiettivo professionale, ha sbagliato campanello. Doveva magari andare qualche portone più avanti e bussare e suonare il campanello di altre organizzazioni, non del Grande Oriente d'Italia. È chiaro, non voglio sfuggire alla sua domanda, la fraterna solidarietà nei limiti del lecito e del possibile e del consentito. Non credo che ci sia reato fino a prova contraria, quindi nei limiti del lecito, del possibile e del consentito. La prima volta in cui mi sono occupato di massoneria, o meglio, sull'onda dello scandalo della P2, perché poi fino a quel momento, stiamo parlando del 1981, io avevo vent'anni, non sapevo nulla della massoneria, quindi l'ho scoperta attraverso lo scandalo della P2 che poi nacque perché in realtà i magistrati stavano seguendo la pista di Michele Sindona, il bancarottiere siciliano, amico di Andreotti, Salvatore della Lira, secondo Andreotti negli anni 70, bancarottiere in rapporti con la massoneria deviata della P2 di Liciogelli, in realtà quindi i magistrati arrivarono di rimbalzo agli elenchi nella residenza del maestro venerabile Liciogelli a Castiglion Fibocchi, elenchi che poi si disse... Nella sede di lavoro, per la precisione, il rosso sia preciso, nella sede di lavoro a Castiglion Fibocchi perché Gelli abitava ad Arezzo, a Villavano. Vero, nella sede di lavoro trovarono questi elenchi e subito si disse che erano elenchi parziali o manomessi, che c'era una seconda lista di veri massoni della P2 tenuta dal sodale di Gelli e Ortolani in Paraguay, Uruguay, perché poi ovviamente la cosa è montata a livelli cosmici, ma detto questo, quando poi ho cominciato a dire ma scusate esattamente che cos'è la massoneria, perché la prima domanda che uno si deve fare è il cosa, ho scoperto che in realtà poi di massoni insospettabili ce n'erano tantissime e quando dico insospettabili erano personalità, dico insospettabili per me, tipo il principe Antonio De Curtis in arte totò, ho sbaglio Bisi? È vero, è vero, noi abbiamo il Grande Oriente d'Italia nella nostra sede, se vuole o venire a visionarlo, il testamento spirituale che ogni bussante, ogni profano quando deve essere iniziato scrive, è un testamento spirituale che cosa si pensa dell'umanità, che cosa si pensa della libertà? Ci sono le risposte appunto di Totò, ci sono i testamenti spirituali di Pascoli, di Gino Cerri per dire un altro uomo appartenente al mondo dello spettacolo, quindi ci sono degli insospettabili, ma perché insospettabili? Sono persone perbene che hanno scelto di fare quel percorso e sono, penso a Arnoldo Foa ad esempio, un altro personaggio del mondo dello spettacolo che non aveva problemi a dichiarare la sua appartenenza al Grande Oriente d'Italia. Sì sì, giustamente stiamo parlando di personalità scomparse, poi ce ne sono diventi appartenenti insospettabili perché vista l'immagine che è stata coltivata, che è stata proiettata sulla massoneria di questo ambiente dove si vive nell'ombra con i cappucci, tipo quando ero io bambino andava in onda sulla Rai questa serie televisiva che si chiamava Belfagor, il fantasma del Louvre, e poi scopri che c'era tra gli iscritti Gino Cervi, nulla a che vedere con i fratelli Cervi, lo dico a Silvio Berlusconi che una volta disse, adesso andrò a trovare il papà dei fratelli Cervi che era morto da quel dì, i fratelli Cervi martiri della resistenza italiana, Gino Cervi grandissimo attore, Totò, Pascoli, una serie di personalità, per questo spiegavo a Bisi l'insospettabilità, tanto oscuro e nero il mondo della massoneria, tanto luminoso, un uomo di spettacolo come Totò, il quale però appunto era iscritto, poi non so, a Napoli, a Roma, dove era iscritto? A Roma, in una logge di Roma era iscritta. Ecco, logge che non sono pubbliche come, o meglio non sono pubbliche nel senso che poi uno se cerca gli indirizzi li trova, ma se voi andate all'estero ad esempio, in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, le sedi della massoneria sono note a tutte, cioè sono dei palazzi, non c'è nulla di segreto, solo in Italia anche qui si pensa che siccome la massoneria è un'associazione segreta, le sedi siano in bunker blindati, nascosti come latitanti sulla Spromonte, non è così? Non è così, non è così, le nostre sedi sono riconoscibili, ma non so che cosa dovremmo mettere delle insegne luminose, che cosa dovremmo fare, ecco questo lo chiedo appunto a chi ha ancora un pregiudizio verso di noi, dobbiamo fare dei fuochi d'artificio nei luoghi dove appunto ci riuniamo per farci riconoscere, lei ha citato quello che succede in altri paesi, in altri paesi dove non c'è magari il pregiudizio antimassonico, in Italia l'abbiamo pagato, continuiamo a pagarlo, potrei fare tanti esempi di persone che per la loro appartenenza hanno pagato ad esempio anche sui posti di lavoro e alcuni hanno pagato con la vita, qui non era ancora scoppiata la P2 ma il 31 ottobre 1917 un folle che riteneva che i suoi guai personali, professionali, della sua famiglia dipendessero dalla massoneria andò a Palazzo Giustiniani, voleva fare una strage, trovò il Gran Maestro aggiunto Achille Ballori che era stato designato per fare il Gran Maestro e entrò dentro il palazzo, dentro la nostra sede e lo uccise e dopo andò a cercare Ettore Ferrari, andò a cercare Ernesto Natal e li voleva uccidere, andò a suonare al campanello delle loro abitazioni, quindi il pregiudizio c'era allora continua ad esserci, speriamo che questo pregiudizio non armi la mano di qualche folle. Ecco sì, giustamente dice, cosa dovremmo fare? Mettere le insegne luminose scrivendo attenzione qui massoni, no? Perché che poi se ci pensate bene, per carità di di adesso non voglio aprire un fronte polemico con altre meritorie associazioni di persone che si ritrovano, ma il Rotary è un'associazione privata rispetto alla quale se voi vi iscrivete e volete iscrivervi, c'è tutta una procedura, un protocollo per essere iscritti a Rotary, poi fate le vostre riunioni a Rotary, parlate di quello che vi pare, le liste anche lì sono riservate, non è che ti presenti, voglio sapere chi sono gli iscritti a Rotary, giustamente dice lei chi è, perché lo vuole sapere, non se ne parla, è la stessa cosa, dice ma la massoneria ha una tradizione storica, a maggior ragione proprio perché la massoneria si è forgiata attraverso, lo dico per chi volesse approfondire gli argomenti, la scomunica del Vaticano, la caccia dei fascisti, gli scandali delle loggi deviate, perché è inutile negarlo, però prima di parlare in maniera, questo varrebbe per la massoneria come per qualsiasi argomento in realtà, un minimo prima documentarsi, semplicemente per non fare tutti insieme, come per tante questioni in Italia, nel nostro paese, nel dibattito pubblico, come i topolini dietro il pifferaio di Amelin, ecco attenzione, se possibile, poi se volete, non è che vi dovete iscrivere alla massoneria, se no questo sembra un promo per il Grande Oriente d'Italia, dico solo che se ne volete parlare a ragione veduta, prima un minimo di documentazione, dovrebbe essere saggio, va bene Bisi? Mi pare corretta questa impostazione, non è uno spot a favore del Grande Oriente d'Italia, ma è una descrizione dei fatti del nostro atteggiamento verso il mondo ed è un invito, un invito ad approfondire, prima di parlare approfondire, dopo l'approfondimento si può dire non mi piace, oppure mi piace, oppure vorrei entrarvi, non vorrei entrarvi, questo è un modo laico di approccio ad una comunione, ad una organizzazione complessa come è il Grande Oriente d'Italia. Un flash, anche perché quando vi ritrovate a Rimini, prima del Covid, invitate fior di personalità, giornalisti, storici, penso a Paolo Mieli, Oscar Giannino, potrei fare un lungo elenco di partecipanti ai lavori di Rimini, Giovanni Maria Flick, Michele Mirabella, componenti della Corte dei Ministri di Giustizia, Rimini, caro figlio, per carità, anche lei una volta ha partecipato al vascello ad un incontro pubblico. Certo, perché non bisogna, il confronto quando è pubblico è sempre meritevole di attenzione. Grazie a Stefano Bisi, domani avremo ospite, vi ricordate di Bibiano? Ne abbiamo parlato per un anno, poi come al solito succede in Italia, a nessuno frega più niente di che cosa sta succedendo, è successo a Bibiano e dintorni, Pablo Trincia, scrittore e autore del panflet Beleno, poi giovedì avremo ospite lo scrittore Walter Siti che ha appena mandato in Libro in Libro, un libro contro l'impegno e contro gli impegnati giornalisti e scrittori, Saviano, Murgia, caro figlio Giancarlo. E poi venerdì invece ospite per gli amanti di calcio, l'allenatore che ci ha portato ai mondiali di Germania nel 2006, gli abbiamo vinti e poi ha vinto con la Juventus, con l'Inter, Marcello Lippi, intanto continuate a seguire le fonti tutto il giorno, tutti i giorni, noi ci rivediamo domani alle 10, arrivederci!